va bene capo cosa possiamo fare per te potenziato benvenuto nell'armeria grummel net ti servono qui deve essere accaduto qualcosa di terribile cosa dove sono tutti cercavo di dirtelo ratchet secondo il database questo pianeta fu abbandonato ere fa clank la vedi una vecchia nave molto vecchia direi dobbiamo ripararla ratchet devi essere realista tachium troverà i codici di volo del pod sarà qui in pochi minuti clank per favore io devo ripararla e va bene una diagnosi virtuale di questa astronave conferma sei componenti mancanti necessari per il viaggio intergalattico buona ricerca è è è è è è è è è Grazie a tutti. 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 a tutti. Possiamo... a tutti. 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 complimenti. a tutti. 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 a tutti.